Musica Diciamo che è un anno un po' particolare, io ne ho visto di tutti i colori, sono consigliere di Lega Pro, sono stato all'interno del Consiglio federale, però come quest'estate sinceramente penso di non averne mai viste. Vedremo cosa succede, noi nella nostra avventura per quanto poco, penso sia stato anche un caso eccezionale, spero in positivo, vediamo però che c'è qualcun altro che su questo sta giocando e onestamente questa cosa ci lascia molto ma molto dispiaciuti e perplessi. E mi riferisco un po' a questo nuovo Vicenza che nessuno bene sa da dove sia nato e uscito, spuntano ormai come i funghi, vabbè vedremo. Ho certe dichiarazioni, vanno debellate immediatamente, il dire che c'è qualcuno che conosce le norme meglio di noi e che questa cosa, questa operazione fatta da noi all'interno assolutamente delle normative e con un percorso lungo, difficile, complicato ma di straordinaria eccezionalità, direi che è assolutamente poco ragionevole per non dire qualcosa di peggio, sinceramente le persone serie vanno prese per quello che sono, noi siamo persone serie e competenti, essere messi in discussioni da qualcuno che esattamente non sa neanche chi sia, non ci stiamo.